Io so che i duchi sono dei grandi viaggiatori nel tempo, me lo confermo. Assolutamente sì. Perché io infatti ti vedevo nel mio futuro. Mamma mia, questa cosa mi stai. Adesso è il momento tuo di buttare una pick-up line, ce l'hai? Lo sai in vera, no. Butta un braccio, dai. Quali sono le tue passioni, le stelle, le stelle? Quali sono le tue passioni, le stelle? Le stelle, le stelle sono le mie passioni. Quali sono le tue passioni, le stelle? No, stai zitto. Rispondigli, rispondigli. Le mie passioni, io ho tante qualità, mi piace andare un po' a rubacchiere. Non t'ha chiesto le qualità, t'ha chiesto le passioni. Le passioni? Sì, una passione è rubare, è veramente un robot. Ma lo sai che io sono un uomo di passione? Ah, oh, dimmi di più. È la sua passione? A me piace guardare le stelle. Devi dire, la mia passione, sì? La mia passione sei tu. Hai rotto il vasetto anche, rimetti a po'. Perché volevo guardare la stella, capito? Volevo guardare la stella io, quindi. Sì, c'era anche un po'. Così, ecco, guardiamoci negli occhi così, sì, sì. Assurdo. A questo punto mi sento lusingato.